100.000 spettatori presenti, tutto esaurito, magnifico colpo d'occhio. Mentre avete visto che la temperatura è intorno ai 28 gradi centigradi, il clima è quello della grande attesa. No! Oh no! No 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 no! Vado a casa spingendo il tram dopo! No! Ma come si fa sbagliare un gol così? Mia mamma di tacco lo faceva. Vedi che tiro che ha fatto! Palla alle stelle! Pallone alle stelle! È arrivato a Trieste il pallone! Gool! Gool! Mamma che gol! Mamma mia! Che goduria! Che goduria! Palo! Mamma mia il palo! Mamma come godo così il palo! Che godimento! Il pannolone! Mi ci vuole il pannolone stasera, il pannolone! Come godo! Uh come godo! Non ci credo! Non è vero! Sta sbagliato! Grazie! Grazie! Rimarrai sempre nel nostro cuore! Al di là del fatto che posso non credere a queste emozioni! Perché c'è chi è freddo e amorfo! Tiro! Gool splendido! Inventa un gol straordinario! Cos'ha inventato? Inventa un tiro! Non ho parole! Zanichelli aiutami! Nulla è impossibile! Nulla è impossibile! Nulla è impossibile! La parata! La parata! È scesa dal cielo la mano di Dio! A levare dalla porta il pallone! Sinistro! Gool! 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 Sciacquatevi la bocca! Sciacquatevi tutti la bocca! Scarica tutta la sua rabbia con il sinistro violento sotto la traversa! We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end